Buona giornata a tutti dalla trasmissione Magia Stragonaria Paganesimo che va in onda come ogni giovedì, qui abbiamo un po' di persone che vanno su e giù ma noi portiamo un po' di pazienza la trasmissione Magia Stragonaria Paganesimo che va in onda alle ore 15.15.15 su Radio Gama 5 che trasmette su 94FM Oggi sono solo, i ragazzi dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti non sono potuti venire è una cosa per un amico invece devo dire mi ha telefonato Francesco dicendomi che il nostro amico Giang vorrebbe venire in radio per raccontare della sua esperienza riguardo al rito che abbiamo fatto quest'estate sull'Eltopiano di Asiago l'amico Giang è un radioascoltatore che si è avvicinato proprio attraverso queste trasmissioni e niente, io sono molto contento se lui viene in trasmissione a raccontare le sue sensazioni cosa ha provato e cosa ha vissuto per cui questo messaggio va per l'amico Giang vieni quando vuoi, ogni giovedì basta mi dare un colpo di telefono e puoi venire giù e grazie della tua disponibilità in effetti abbiamo conosciuto parecchie persone molto interessanti al di là dei nomi abbiamo conosciuto un sognatore che per me sta diventando un amico prezioso e varie altre radioascoltatrici bene detto questo detto questo la trasmissione ricordiamoci che è aperta a qualsiasi pagano o apprendista stragone voglia venire a parlare delle sue sensazioni delle sue cose o quello che lui crede ricordiamo sempre che il paganesimo si regge sulla soggettività delle persone non su un imperio oggettivo non sull'adesione a un credo ma proprio per la capacità di sviluppare la propria capacità di percepire il mondo circostante e le percezioni siccome sono diverse da persona a persona ogni sensazione è diversa ed ogni sensazione è preziosa bene detto questo cominciamo con la trasmissione di oggi vi do intanto il mio indirizzo io sono Claudio Simeoni via delle Vignole 4 Marghera e vi do anche l'indirizzo postale dell'istituto Mediterraneo Studi Politeisti ricordo che l'istituto stampa un bollettino periodico che basta scrivere basta scrivere all'istituto e l'istituto ve lo manda è un bollettino interno comunque viene anche distribuito fuori basta pagare spese di postali insomma mettersi d'accordo in qualche modo è istituto Mediterraneo di Studi Politeisti è Casella Postale 53 Malostica Vicenza detto questo dovevo cominciare la sequenza delle trasmissioni sui vari paganesimi invece con questa trasmissione volevo concludere il discorso che abbiamo fatto sui secoli finora e dalla prossima volta cominceremo col paganesimo Urrita e le sue influenze nel Medio Oriente così cominceremo a vedere che cos'è il paganesimo e come i vari paganesimi si relazionano fra di loro si distribuiscono fanno circolare la conoscenza e la consapevolezza fino all'arrivo dell'orrore cristiano bene cosa abbiamo tentato di dimostrare nella sequenza dei mutamenti nel corso dei secoli noi abbiamo sintetizzato prendendo ad esempio un avvenimento per secolo e alcuni pensatori filosofi e giuristi ma non bisogna dimenticare che tutti loro altro non erano che espressione delle tensioni che dagli esseri umani salivano nei vari settori del comando sociale noi abbiamo sintetizzato e nonostante questo abbiamo annoiato eppure un secolo è composto di 100 anni ogni anno di 365 giorni ogni giorno è composto da 24 ore e ogni ora di 60 minuti io vi ho annoiato per qualche ora la settimana ma la noia il terrore l'orrore e la determinazione ha attraversato gli esseri umani per ogni istante della loro esistenza salutiamo un attimo un amico alvise che sta per partire ciao alvise il macrocosmo che noi abbiamo descritto è il microcosmo dell'esistenza umana il divenire del singolo essere mentre costruisce la sua libertà dalla famiglia dalla quale è nato l'imposizione delle sue determinazioni nel sistema sociale la richiesta di libertà e della sua esistenza come essere propositivo nel sistema stesso di questo parleremo meglio un'altra volta cosa ci interessa sottolineare degli insegnamenti che vogliamo trasmettere allora l'ottocento ricordate di cosa abbiamo parlato dell'ottocento era la schiavitù e così via secolo per secolo insegna come il terrore tenti sempre l'istituzionalizzazione nascondendosi dietro una pretesa struttura giuridica può chiedere meglio l'asservimento abbiamo parlato dei costantinum costantinorum con cui la chiesa cattolica si impossessava dei beni temporali il novecento insegna come per variare la sequenza dei mutamenti e invocare una situazione più favorevole è necessario spesso peggiorare le condizioni di vita nel presente il passaggio ricordate fra la schiavitù e il servillismo il mille insegna come il fare costruisce gli individui chi costruisce fonde il proprio divenire attraverso la costruzione chi distrugge fonde il proprio divenire distruggendo dal fare delle mani si deduce la direzione del mutamento il millecento insegna come la percezione del circostante sia tradotta attraverso il condizionamento educazionale chi è educato a pensare in una determinata direzione piegherà la percezione in quella direzione il mille duecento ci insegna come i cammini di libertà possono trarre origine da ogni tipo di costrizione adattandosi ad ogni situazione cioè la libertà può essere costruita da qualsiasi oggettività noi partiamo è il soggetto che deve stabilire la strategia per costruire la libertà il mille trecento insegna a sfruttare ogni opportunità fornita dal circostante per variare la sequenza dei mutamenti su cui si fonda il divenire il millequattrocento insegna che per battere l'orrore è necessario innestare nuove esigenze e nuovi bisogni di cui l'orrore per la sua natura non è in grado di porre il suo dominio ciao Michele il mille cinquecento insegna necessità del mascheramento esporsi o mascherarsi deve essere una scelta non una situazione subita ricordiamo le streghe ricordiamo Arlecchino il milleseccento insegna come anche l'oggettività in generale ma soprattutto il nemico adatti la propria azione per far fronte alle necessità a cui è costretto per riportare i mutamenti a proprio favore ricordate la chiesa cattolica che si trasforma dall'orrore con cui alzava i roghi si trasforma in coercizione psicologica millesettecento insegna come una volta mutato il corso del divenire questo nuovo corso deve essere difeso fin tanto che non entra a far parte del pensiero umano la mutazione è un atto di magia ma la radicalizzazione avviene nel quotidiano della ragione dunque l'allargamento della ragione l'ampliamento lungo il sentiero di libertà permette alla magia di modificare i confini della ragione questi devono essere continuamente modificati in un processo infinito di dilatazione della libertà soggettiva qualora quel processo si interrompa dopo un periodo di stasi si verifica un processo involutivo della libertà umana se oggi parliamo di libertà, fraternità e uguaglianza sono termini molto comuni sono termini che tutti quanti pensano di sapere il significato però quando fu fatta la rivoluzione francese questi termini dovessero essere imposti con la forza alla chiesa cattolica che di uguaglianza libertà e fraternità non ne voleva assolutamente sapere riassumiamo come già abbiamo detto cosa stiamo comunicando attraverso un'analisi di un avvenimento storico per ogni secolo dall'ottocento al 1789 abbiamo comunicato che cos'è l'orrore e abbiamo detto primo, quando l'orrore arriva a un solo scopo impossessarsi degli esseri umani attraverso l'occupazione e la gestione del comando sociale secondo, i suoi bisogni lo portano a saccheggiare ogni presente terzo, distrugge quanto non conosce per paura della sua pericolosità quarto, l'orrore ha solo due mezzi con i quali dominare la ferocia e il terrore quinto, l'orrore nasconde la propria ferocia e il proprio terrore imputando tale attività ai propri nemici sesto, chi cerca alleati fra chi vive nutrendosi di ferocia e di terrore cioè l'orrore si cerca degli alleati fra chi vive nutrendosi di ferocia e di terrore settimo, disprezza il nuovo e il diverso ottavo, distrugge il sapere e la conoscenza per dominare meglio nel sistema sociale da lui dominato deve mantenere il livello più misero di conoscenza e sapere nono, considera gli esseri umani una sua proprietà decimo, svia l'attenzione degli esseri umani dalla sua attività combattendo altre forme di orrore salvo alleandosi e accordandosi quando il controllo degli esseri umani rischia di sfuggirgli ricordate la lotta delle crociate come è andata a finire la lotta delle crociate gli accordi che hanno fatto per spartirsi i territori di influenza undicesimo anche se l'orrore viene identificato attraverso l'attività degli esseri umani l'orrore ha una sua propria vita propri bisogni e cerca alleati fra gli esseri umani adatti a servirlo come si agisce per uscire dall'orrore anche questo lo abbiamo già detto ricordare sempre come gli esseri umani sono costruiti dall'orrore in funzione del suo divenire secondo non è possibile costruire l'uscita dall'orrore partendo da esseri umani che anche se subivano la parte peggiore dell'orrore sono stati educati dall'orrore davanti alle difficoltà generate dalle contraddizioni dell'esistenza useranno mezzi appresi dall'orrore riproducendo l'orrore stesso terzo per costruire un processo d'uscita dall'orrore è necessario imporre dei cambiamenti che soddisfino l'avidità dell'orrore ma nello stesso tempo imbocchino sequenze di mutamento diverse quarto l'orrore si serve di essere umani avidi per battere costoro è necessario essere avidi di libertà necessità, giustizia, sapere, conoscenza abilità nel palpare il mondo quinto per battere l'orrore è necessario sviluppare la percezione e il sogno di mondi diversi il sogno costruisce l'utopia ideale la percezione cerca i mezzi per realizzarla sesto per battere l'orrore è necessario costruire pensieri diversi relativi a bisogni che anche se stuprati dall'orrore inducono le persone ad agire per soddisfarli settimo per battere l'orrore è necessario cogliere quanto di nuovo si presenta dall'oggettività è necessario essere veloci per cogliere il nuovo e spingerlo verso i mutamenti prima che l'orrore lo trasformi in un suo nuovo strumento ottavo l'orrore tanto più ci scoscrive la sua azione tanto maggiore il controllo sugli esseri umani tanto più si allarga il campo d'azione coinvolgendo altre contraddizioni e altre situazioni tanto più facile risulta l'uscita dall'orrore nono tanto maggiore il numero degli esseri umani che sviluppano la propria percezione tanto più difficile per l'orrore averne il controllo decimo tanto maggiore il numero degli esseri umani che chiedono la soddisfazione dei propri bisogni tanto minore la capacità dell'orrore di condizionarli undicesimo tanto e più sono le vie i sogni le utopie che tentano di costruire il futuro tanto minore è la possibilità dell'orrore di affermare il proprio dominio bene e questo è quello che noi abbiamo voluto dire in questi mesi il grande crogiolo della vita e delle trasformazioni sociali all'interno del quale agisce lo stregone noi vi abbiamo dato elementi seguendo la regola della stregoneria l'insegnamento non è mai un insegnamento un'idea non è mai un'idea cioè le cose vengono dette e gettate nel vento gettate sulla terra affinché germoglino per cui ogni persona deve trarre ciò che più li si confà da quello che abbiamo detto per cui io ho messo insieme uno schema generale io ho messo insieme un percorso di stregoneria che andrebbe sviluppato all'infinito perché in ogni istante della vita in ogni istante di ogni giorno migliaia e migliaia di esseri umani hanno lavorato per costruire questo io mi sono limitato a prendere alcuni fatti alcune situazioni eclatanti e a costruire lo schema funzionale di azione della stregoneria ma io ho fatto solo una piccola operazione però se ognuno di noi può cercare le sue cose le cose che più coincidono con i suoi bisogni e con le sue tensioni ideali e con questo noi chiudiamo tutto il periodo storico che va dall'800 al 1789 ho già detto che il secondo grande ciclo della stregoneria è cominciato nel 1789 ed è finito nel 1982 e il ciclo adesso che c'è in questo momento è appena iniziato quello che voglio dire io è un'altra cosa ancora non esiste nessun progetto della stregoneria a priori in quanto tutti i progetti della stregoneria sono fatti a posteriori cioè lo stregone agisce in funzione del tempo che gli viene incontro un progetto di uno stregone voi non lo potete descrivere non si può descrivere perché lo stregone non agisce in base al pensato o in base al passato ma agisce in funzione di costruire il futuro per cui la sua azione è un'azione che a volte non ne ha neanche consapevolezza del fine che ha l'azione in quanto egli è diventato parte dell'intento della propria specie per cui voi i progetti della stregoneria li potete conoscere solo a posteriori cioè solo quando hanno finito di esistere a priori non è possibile conoscere nessun progetto a priori è possibile conoscere i progetti non so di un governo di una legge il progetto del traffico urbano ma non è possibile conoscere a priori un progetto della stregoneria perché il segreto della stregoneria non sta nella cosa nascosta ma nel tempo che viene incontro e questo spero di essere stato chiaro e se non sono stato chiaro mi spiegherò meglio speriamo detto questo e speriamo che sia stato utile per qualcuno anche per afferrare la magia attraverso la quale leggere gli avvenimenti e i progetti degli stregoni nella situazione attuale passiamo a descrivere l'ultimo elemento generale del crogiolo concludendo il crogiolo dalla prossima volta faremo le descrizioni dei paganesimi che dall'antichità sia pure in forma diversa hanno mantenuto il ricordo per cui traccieremo adesso l'ultimo elemento del crogiolo e chiuderemo il crogiolo generale che avevamo aperto alcuni mesi fa dei paganesimi di cui parleremo dalla prossima volta parleremo di quello che c'è rimasto dei paganesimi ricordiamo che il paganesimo ha la caratteristica di poter costruire qualsiasi divinità cioè esiste le forze di fondo le forze di base che ci circondano che appartengono al mondo circostante bene, ogni soggetto, ogni individuo raccoglie una parte di quelle forze e la filtra attraverso la sua soggettività attraverso il suo divenuto per cui ogni volta che un individuo fa questo non fa altro che costruire una relazione divina naturalmente se molte persone li camminano a fianco e sentono le stesse cose hanno le stesse necessità e gli stessi bisogni questo divino diventa una divinità altrimenti è la sua percezione del singolo soggetto pertanto noi del paganesimo non abbiamo il dio da obbedire il dio da metterci in ginocchio ma dobbiamo innanzitutto sviluppare il dio che abbiamo dentro innanzitutto sviluppare il nostro potere divino e col nostro potere divino affrontando il circostante entriamo in legame entriamo in relazione col divino che dà il circostante verso a verso di noi e costruiamo una relazione divina per cui la divinità non è oggetto in sé è anche oggetto in sé nel senso che la terra è viva il cielo è vivo però se io mi faccio cielo percepisco il cielo come essere vivente altrimenti lo penso solo come aria questo vorrei essere stato chiaro anche su questo abbiamo parlato degli elementi del crogiolo e gli elementi del crogiolo ricordo ancora che servono per sviluppare il divino che abbiamo dentro tralasciandone uno fondamentale si è voluto attendere che le idee fossero un po' più chiare e che i concetti entrassero un po' alla volta nel pensiero delle persone prima di parlare dell'ultimo elemento l'ultimo elemento del crogiolo è palpare il mondo questo elemento l'abbiamo tralasciato per non essere fraintesi ora pensiamo che noi possiamo parlare in quanto il nostro pensiero è sufficientemente chiaro è necessario premettere come dalle mani escano delle linee di tensione con le quali noi ci relazioniamo con l'intero mondo circostante questo fare non è un fare qualunque è un fare specifico della nostra specie e lo condividiamo con i primati palpare il mondo significa fondere l'energia vitale che esce dalle mani con l'energia vitale che dal mondo circostante viene verso di noi in altre parole l'azione fatta con le nostre mani può essere un'azione abitudinaria e vuota o può essere un'azione magica ciò che discrimina l'uno e l'altro è il soggetto cui le mani appartengono le linee di tensione sono forgiate dalle scelte attraverso le quali il soggetto è divenuto e la loro capacità di fusione con gli oggetti del circostante dipende dal potere di essere attraverso il quale il soggetto ha costruito se stesso questo anche attraverso l'uso delle proprie mani il soggetto può scegliere se legarsi al mondo o separarsi da esso quando il processo di separazione è incominciato è molto difficile per il soggetto tornare a far parte del mondo se il soggetto sceglie di essere parte del mondo allora palpa il mondo palpa il mondo mescolando la propria energia vitale con quella del mondo la fonde e la trasforma per fondere e trasformare se stesso in funzione di questo fare che diventa parte integrante del proprio intento come il soggetto può separarsi dal mondo o diventarne parte? nel momento in cui sceglie se la propria vita si fonda sulla costruzione del proprio futuro del proprio divenire degli oggetti che intende usare o se la sua vita si fonda sulla propria azione al di là ed oltre di quanto il sistema sociale gli impone abbiamo già parlato dell'attenzione l'attenzione permette di mettere a fuoco l'intento sull'azione che stiamo compiendo l'azione sorretta dall'attenzione attiva le linee di tensione che escono dalle mani e le concentra sull'azione che il soggetto sta intraprendendo la manipolazione della materia di qualunque materia diventa immediatamente un atto magico le linee di tensione che escono dalle mani si mescolano con l'energia vitale della materia e si alterano riportando al soggetto quanto la materia li trasmette per questo motivo la gran parte delle streghe e degli stregoni in epoca medievale furono forgiati attraverso le relazioni fra l'essere umano e la materia o se vogliamo attraverso il suo lavoro questo stesso discorso vale per le divinità pagane percepite e sviluppate attraverso il lavoro agricolo in ogni società antica il lavoro il fare costruiva la relazione col circostante dove la volontà del soggetto si amalgamava con la volontà della materia e delle sue determinazioni le trasformazioni della materia trasformavano anche il soggetto alimentando il suo potere di essere ogni volta che il suo fare era supportato dall'attenzione tutta la storia dell'alchimia altro non è che la storia del potere personale dell'essere mentre manipola la materia attraverso l'uso della sua attenzione c'è una categoria particolare di apprendisti stregoni cui anch'io appartengo e sono i meccanici questa categoria è molto recente in quanto la capacità di alterare se stessi per compenetrare meccanismi piuttosto complessi è una cosa recente nello sviluppo umano a differenza dei fabbri che fondevano la loro energia vitale con quella del metallo che fondevano battevano e modellavano il meccanico deve penetrare il meccanismo all'interno del sistema funzionante e modificarlo per ottenere l'effetto voluto la sua azione sulla materia è azione di ricerca e analisi del particolare inserito in un insieme funzionale e dell'insieme funzionale per giungere al particolare se ogni azione di chiunque manipoli la materia ha lo scopo di giungere ad un fine che è parte dell'intento generale l'azione del meccanico ha delle peculiarità che gli permettono di estendere attraverso la sua attenzione il suo fare all'interno di ogni tipo di meccanismo sia esso magico sociale religioso morale e in qualunque campo della scienza magari non conosce gli elementi concorrenti alla formazione di quel meccanismo in quanto concorrono nozioni specifiche ma saprà sicuramente riconoscere le concatenazioni atte a produrre un fenomeno scusate questa linea alchemica è molto recente e deve essere ulteriormente perfezionata ma già sta dando ottimi risultati palpare la materia è un termine generico buono per definire ogni tipo di azione svolto attraverso le mani ma esiste un'attività molto più precisa che rientra nel palpare il mondo ed è l'attività sessuale umana il rapporto sessuale è un'attività il cui scopo è quello di fondere l'energia vitale fra i partecipanti fondere l'energia vitale significa accelerare lo scorrimento dell'energia vitale dei partecipanti esiste un modo affinché non avvenga la fusione dell'energia vitale attraverso il sesso ed è lo stupro il possesso di uno dei partecipanti in questo caso il rapporto sessuale si riduce a una normale funzione fisiologica e non solo non ha nulla di magico ma distrugge i campi energetici sia del possessore che del posseduto nel caso di rapporti sessuali svolte a soddisfare il piacere di ognuno dei partecipanti la loro energia vitale sessuale si fonde diventando un tutt'uno al distacco ognuno si riprende il proprio campo vitale arricchito dal campo vitale con cui è entrato in contatto ha scaricato nell'ambiente l'energia vitale stagnata di entrambi tanto più decisamente quanto maggiormente è stato piacevole e soddisfacente il rapporto ed ha accelerato i flussi della propria energia vitale l'atto sessuale è atto magico in se stesso non è un caso come durante l'oscurantismo cristiano la guerra che costoro hanno scatenato nei confronti della sessualità fosse ferocissima spesso la magia ha dovuto fare il ricorso alla magia sessuale per riuscire a costruire un minimo di sopravvivenza umana tanto orribili erano le condizioni in cui i cristiani in generale e i cattolici in particolare costringevano a vivere gli esseri umani spesso i cattolici hanno dipinto la magia sessuale come orrore prodotta dalla descrizione che loro davano del demonio ma il vero orrore era ed è la loro pratica attraverso la quale distruggono la sessualità umana impedendo ai bambini di seguire le proprie tensioni la guerra feroce che il cattolicismo ha dichiarato alla masturbazione fa parte della storia dell'orrore il vero orrore è la loro azione attraverso la quale costringere esseri umani alla sottomissione sia sessuale che nella vita quotidiana non i tentativi di uscire dall'orrore ogni tentativo di uscita dall'orrore per quanto violenti siano i mezzi usati è comunque un tentativo nobile in quanto l'orrore non ha nessuna giustificazione e nessuna ragione per la quale dominare gli esseri umani non chi chiede libertà nella propria esistenza va deprecato ma chi chiede sottomissione e la impone mediante la forza e la violenza forza e violenza che anche oggi vengono largamente esercitate per imporre il condizionamento educazionale palpare il mondo e anche fare sesso chi non fa sesso non costruisce il proprio divenire magico fare sesso per sviluppare se stessi non per fare figli se si vuole fare dei figli questa deve essere una scelta soggettiva fare figli significa sapere che davanti a noi si prospetta un lavoro lungo molti anni perché questo perché questo è il divenire che il figlio impone dunque scegliere e non subire se si subisce si si deve sottrarre subito e immediatamente non avere rimorsi non avere rimorsi perché la violenza non è solo quella che impone cose non desiderate ma anche quella che impone l'autocolpevolizzazione sotto questa costituzione i cattolici hanno impedito l'educazione sessuale pur di costruire dolore in questa costituzione sto parlando della costituzione della repubblica eh i cattolici hanno impedito l'aborto pur di costruire miseria e dolore in questa costituzione i cattolici hanno impedito il divorzio pur di costruire miseria e dolore la loro tecnica è quella di colpevolizzare le persone che non sono in grado di difendersi il bisogno di libertà dalle imposizioni è l'espressione dell'essere natura dentro l'essere umano palpare il mondo è la trasformazione di un lavoro di un compito di una mansione in un atto magico la relazione fra l'essere umano e il circostante avviene attraverso il fare è il fare che costruisce la relazione mentre l'attenzione fonda energia vitale di chi partecipa alla relazione questo è l'ultimo elemento che mettiamo nel crogiolo dello stregone mescoliamo gli elementi col bastone dello stregone costituito ricordo della sospensione del dialogo interno la sospensione del giudizio e lo sceticismo e fondiamo il nostro divenire nell'infinito dei mutamenti con questo io ho concluso il crogiolo e con questo ho concluso anche il periodo storico e adesso affronteremo dalla prossima trasmissione affronteremo i paganesimi e affronteremo i paganesimi per iniziare un discorso sul paganesimo abbastanza importante bene io a questo punto avrei finito però un po' di rassegna stampa vediamo un po' chiuso di rassegna stampa dal 31 10 97 il gazzettino Richard Gier Cina ti accuso di cosa? ricordiamo sempre che i monaci tibetani stanno chiedendo alla Repubblica Popolare Cinese di poter avere gli schiavi ricordiamo sempre che il Tibet è stato l'ultimo l'ultimo paese fra virgolette perché il paese non lo è mai stato in realtà in realtà è sempre stato parte integrante della Cina ad abolire la schiavitù tanto per essere chiari e i monaci in questo momento stanno richiedendo di avere gli schiavi a loro disposizione per cui vale molto questo discorso so benissimo che all'amico Jan questo discorso dà un po' fastidio perché l'amico Jan invece ama molto ama molto alcune pratiche buddhiste io rispetto molto l'amico Jan però la realtà è questa insomma non possiamo farla a meno Voitila se questo non significa che difendo il regime cinese io non difendo nessun regime difendo il meno peggio in ogni situazione Voitila condanna il razzismo antisemita il popolo ebraico il popolo ebraico diciamo un po' il popolo ebraico ha sottolineato il Papa persevera ancora e contro tutto e contro tutto nell'essere il popolo dell'alleanza e malgrado le infedeltà degli uomini Dio continua ad essere fedele alla sua alleanza cioè fedele all'alleanza con il popolo ebraico voglio mettere in luce questo è in corso un progetto abbastanza abbastanza lineare da parte dei cattolici e dei cristiani un po' più in genere ma più dei cattolici che è quello di unificare il proprio cammino il cammino religioso con gli ebrei e i musulmani in pratica non è uniformale il cammino religioso è uniformale la propria capacità di controllo degli esseri umani e la revisione contro l'attività antisemita del Papa del Papa va in questa direzione ricordo sempre che oltre alla persecuzione contro la Chiesa ci sono anche le persecuzioni contro gli omosessuali le prime persecuzioni ricorda l'associazione omosessuali iniziarono nel IV secolo dopo Cristo appena il cristianesimo divenne religione di stato non ho fatto altro di direttare religione di stato con l'imperatore Giustiniano nel VI secolo fu sancita la pena al rogo per i sodomiti la situazione peggiorò nel secondo millennio nella sola Venezia fra il 1220 e il 1700 si contano 500 roghi di omosessuali vediamo un attimo le telefonate poi andiamo avanti pronto? si pronto buonasera parla Crivellari si? mi scusi per parlare con il signor Carmelo eh deve chiamare un altro momento arrivederci a me mi spiace ma sono in diretta e si deve parlare con Carmelo aspetta che ci sia Carmelo in radio ehm si contano oltre 500 nel 1700 fra il 1220 e il 1700 si contano oltre 500 roghi di omosessuali oltre 500 a Valencia nello stesso periodo e andiamo avanti di questo passo poi magari i cattolici chiederanno scusa anche per questo forse no? io Paolo in lotta con gli ebrei dalla Repubblica del 30 10 97 qui c'è una serie di passi di passi tratti dei Vangeli e degli Atti degli Apostoli eh lettera dei Romani Vangelo secondo Matteo abbiamo gli Atti degli Apostoli allora Pietro disse Dio nel suo volere e nella sua provvidenza ha permesso che egli vi fosse consegnato agli uomini di Israele e voi per mano di empi senza legge lo avete ucciso e inchiodato al patibolo cioè c'è tutto quanto una serie di passi degli Atti degli Apostoli e dei Vangeli che condannano gli ebrei per cui gli ebrei per duemila anni ehm sono stati fatti passare come dei cidie e per questo sono stati bruciati ehm è da questo che prendono i roghi ebrei la chiesa rilegge i Vangeli beh eh adesso Voitila dice ehm sono stati questi pregiudizi ha ribadito Cotier a soffocare in molti la capacità di reazione evangelica quando sull'Europa si è scatenato l'antisemitismo pagano e anticristiano no l'antisemitismo era solo ed esclusivamente cristiano ehm i pagani non hanno mai perseguitato gli ebrei e non hanno nulla a che vedere col paganesimo anche perché gli ebrei a Roma erano una religione ammessa c'è tutto un tentativo anche da parte della Chiesa Cattolica di far passare il nazismo come un movimento pagano in realtà il nazismo è un movimento cristiano il super uomo nazista non è altro che il Gesù dei Vangeli ufficiali che dice fermati vento risorgi Lazzaro o fai io arrivo sulle sulle nubi dal cielo a destra di mio padre se non fai quello che dici dico io andrà agli inferni sarei bruciato nella gaenna e così via per cui il super uomo nazista è il Gesù dei Vangeli al di là al di là di qualsiasi cosa la Chiesa possa dire la Chiesa è fatta di menzogne per cui la Chiesa può dire quello che vuole andiamo avanti ancora e stanno tentando di fare questa operazione andiamo avanti ancora cosa chiedono i cattolici dal 30 a 10 del 97 sempre sulla dalla Repubblica il Vangelo dice questo anche questo è un punto fondamentale cosa ci aspettiamo prosegue il Vangelo è intessuto di antisemitismo di incitazione all'odio verso i Giudei e cancellare questa questa trama sarà impossibile visto che è un testo sacro questo è cosa chiedono ai cattolici dalla Repubblica del 30 a 10 del 1997 quello che noi critichiamo cioè quello che noi condanniamo nei cristiani nei cattolici non è tanto il fatto che nel passato hanno preso delle posizioni sbagliate tanti pagani nel passato hanno preso delle posizioni sbagliate che noi oggi condanniamo ma il problema è che i pagani hanno preso questa posizione in quanto erano loro cioè in quanto loro si assumevano la responsabilità di quelle posizioni che prendevano e i cristiani invece mettevano in bocca il loro Dio assoluto cioè erano posizioni assolute fatte dal Dio assoluto al di fuori dello spazio del tempo per cui se quella o si rimuove quelle affermazioni si dice quelle affermazioni erano sbagliate allora non è più un Dio assoluto non è più il padrone del mondo non è più l'infallibilità e allora i cristiani non hanno più nessun Dio davanti al quale mettere in ginocchio le persone oppure oppure a questo punto ricontinueranno a fare le stesse cose cioè le stesse cose che facevano mille anni fa bruciando viva la gente la faranno ancora perché i principi fondamentali da cui partivano per bruciare viva la gente sono ancora presenti nella bocca del loro Dio nella bocca del pazzo di Nazareth allora o si modifica la struttura la struttura religiosa oppure ci saranno ancora i roghi questo è importante sapere cioè non si tratta di persone che hanno sbagliato si tratta della parola immutabile del Dio cioè del Dio creatore assoluto ricordate cosa dice il Gesù passerà questo cielo passerà la terra ma non cadrà un apice della legge ricordiamoci tutto questo eh per cui quando Dio dice non lasciare la strega che viva è Dio che lo dice cioè è Dio che non vuole non può permettere alla strega di vivere è lui che la brucia cioè è il macellaio di Sodoma e Gomorra che brucia la strega non solo il prete che la condanna o il suo servo che dà fuoco alla pira questo deve essere chiaro cioè esiste una partecipazione di insieme bene lasciamo un po' a parte queste polemiche fra cattolici ed ebrei che purtroppo ci trascineremo dietro per molto tempo un padre gesuita ha decapitato in India rapiscono e uccidono chi si batte dice l'articolo per i diritti dei poveri questo è un articolo dalla Repubblica del 30 10 1997 ricordo sempre che i gesuiti hanno scatenato vere e proprie guerre contro qualunque altra religione contro qualunque altra fede contro qualunque altro modo di pensare eh sono responsabili di mattanza di milioni di persone pertanto se loro vanno in India a scatenare una guerra di religione devono conoscere le reazioni poi ci penserà la magistratura di quel paese a intervenire pronto ciao Gian Paolo scusa per l'altra volta eh no scherzi ehm mi è venuto in mente adesso una cosa a questo momento sì perché perché il corpo è così emarginato diciamo a livello spirituale quando io posso esprimermi solo ed esclusivamente con il mio corpo e lo dimostro quando volete solo attraverso il corpo perché quando io sto parlando parlo col mio corpo non so se avendo l'idea e quindi l'inizio parlando anche di inizio per me c'era il corpo è attraverso il corpo che io mi esprimo tutto il resto sono tutte allucinazioni mentali che mi faccio ma solo attraverso il corpo io parlo e posso esprimermi anche spiritualmente con te ma attraverso il corpo però come farei io esprimermi con te anche diciamo in pensieri elevati spirituali trascendentali come li vuoi chiamare se non attraverso il corpo attraverso la voce che parte sempre dal mio fisico del mio corpo mi senti? di là di là scusa mi senti? si ti sento scusa un attimo solo un attimo Giampaolo di là scusa Giampaolo vai tranquillo dimmi cioè veramente sto dando sempre più importanza a quello che io sono qui in maniera molto semplice molto elementare e molto concreta fisicamente quello che io sono dopo quello che immagino è un'immaginazione che può essere nel momento in cui qui io non ci sono più fisicamente con il mio corpo allora sarà un altro discorso certo ma come faccio andare a toccare quel momento finché non lo passo quel momento lì e solo io saprò in quel momento cosa sono cosa sento non potrà dirmelo un'altra persona certo perché se non è passato attraverso questa esperienza come può raccontarmi le fandoni di qualsiasi genere siano questo è vero ti saluto e ti abbraccio ciao ciao mi scuso per la qualità si sentiva abbastanza male pronto buonasera senta io parlo nome del signor Carraro desidererei parlare con il signor Carmelo sarebbe bene telefonarsi da un'altra parte un altro momento cosa vuol dire in un'altra parte che non c'è nessuno qui sono in diretta arrivederci scusa a me mi dispiace le persone vogliono parlare con questo o con quello però qui ci sono io in questo momento e sono in diretta per favore non disturbate la trasmissione su queste cose è importante insomma Carmelo trasmette in trasmissione e voi parlate con il signor Carmelo quando c'è adesso non c'è nessuno ci sono solo io per cui chiaramente vediamo un attimo pronti c'è la Lucia per caso ancora va bene abbiamo visto che c'è un nuovo modo per disturbare le trasmissioni eh padre gesuita decapitato in Cina in India dunque più sta gente va a dichiarare guerra in giro e più sta gente e più sta gente ha delle ritorsioni se poi la cosa rappresenta altri aspetti beh ci penserà la magistratura di quel paese abbiamo detto mio padre pluriassassinato incestuoso la figlia denunciò in vano il reverendo alla polizia belga vediamo un attimo pronto? no no non c'è arrivederci pronto? pronto? eh questo questo prete protestante Andreas Bendi un gherese residente in Belgio si arricchisce di nuovi spaventosi capitoli ora è la figlia Agnes a puntare l'indice con un'intervista quotidiana ungherese Majar Irlep sul genitore lei rivela che sotto l'abito talare si nascondeva non solo un pluri omicida accusati di aver fatto sparire sei suoi parenti ma pure uno struperatore incestuoso pronto? stronzate che spari stronzo questo è stato messo in diretta eh è stato registrato molto bene sul gazzettino sul gazzettino di martedì 4 novembre abbiamo l'anagrafe dei primi cristiani questa è una mostra vediamo pronto? cosa è successo quando è stato registrato? questa è una mostra fatta fatta dal Vaticano in cui ci sono gli le pietre tombali delle persone dal paganesimo fino al cristianesimo ed è interessante l'articolo di Arcangelo Paglia Lunga